Abbiamo ricevuto molte richieste di consegna e adesso la gente sta timidamente tornando, insomma. Ci siamo trovati in pochi a guardarci in faccia i primi giorni dove non c'era nessuno, eravamo chiusi, non sapevamo quello che ci attendeva. Abbiamo pensato cosa potevamo fare, quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cominciato a pubblicare sui social la nostra proposta di consegna a domicilio, insomma. Devo dire che siamo rimasti noi stessi assolutamente sorpresi dalla risposta e dal bisogno che, diciamo, le persone avevano di ricevere qualcosa a casa. Era un modo un po' per sentirsi vivi ancora, insomma. E quindi siamo stati sommersi veramente da richieste da tutta la regione, quasi. Secondo lei, in un momento come questo, il fatto di, non so, acquistare una pianta piuttosto che sistemare il proprio balcone, cioè le persone hanno bisogno di bello? Sì, non credevo, non credevo. Ma il fatto di poter avere una pianta da accudire, un fiore o addirittura fare l'orto, c'è tanta gente che si è buttata a fare l'orto pur non avendolo mai fatto. Quindi abbiamo ricevuto veramente tantissime richieste da questo punto di vista. Una volta che, chissà quando, si tornerà alla normalità, vi porterete dietro qualcosa che avete imparato in questi giorni? Sì, assolutamente sì. Abbiamo ricevuto una spinta a fare quello che avevamo un po' sempre pensato, a vedere, di incrementare un pochino anche la consegna a domicilio per andare incontro anche alle esigenze delle persone che magari non hanno troppo tempo e già fruttano questo tipo di vendita in altri canali. Quando non si è spinti dalla contingenza dei fatti, diciamo che si tende sempre a spostare in avanti il problema o la proposta. Questo ci ha obbligato, come dire, ad accelerare assolutamente su questo fronte. Spero proprio che rimanga un canale che un domani possa essere sfruttato ancora. Quindi insomma qualcosa di positivo si è portato a casa anche in questa situazione difficile? Ma noi abbiamo vissuto anche il terremoto perché siamo in piena zona rossa del 2012. Quindi ogni, tra virgolette, catastrofe o situazione è molto difficile. Porta in sé dei lati negativi ovviamente, ma sicuramente la possibilità di portare a casa dei nuovi spazi commerciali o di sviluppo. Quindi bisogna sempre stare con le antenne dritte per cercare di capire quale opportunità cogliere. Ecco, credo che sia importante questo.